Buongiorno a tutti. Il mio intervento sarà solo un saluto, dato che il vostro congresso ha una ordine del giorno molto importante da discutere e che io non parlo molto l'italiano. E prima voglio ringraziare il vostro segretario generale Massimo Massi, tutta la UILCA e a tutti voi per l'invito e anche per il grande sostegno all'attività di Uni, anche dando un rappresentante per essere l'attuale presidente di Uni Finanzas. Ma non solo per questo, ma anche per questo fatto. Voglio ringraziare il vostro compagno che si è aiutato nel duro lavoro che abbiamo per costruire il sistema finanziario sostenibile che può servire la società e non il contrario. Questa è la nostra sfida del futuro, costruire questo sistema finanziario e noi, come Uni, costruire anche la più forte relazione industriale internazionale con la contraparte istituzionale e della multinazionale. Questo nuovo sistema finanziario dovrebbe sostenere l'economia reale attraverso il finanziamento della produzione industriale e un convinto sviluppo sostenibile. Dovrebbe anche generare posti di lavoro di qualità, senza alcuna precarizzazione. I uni crediamo che sia necessario costruire un patto sociale, attraverso il dialogo sociale, perché non ci aspettiamo che siano altri che deciditi cosa che è meglio per i lavoratori tutti. Come attori sociali vogliamo partecipare attivamente a questa decisione. Vogliamo che tutti voi che siete qui oggi continuate a sostenere questo nostro lavoro comune, perché uni siamo tutti noi, e anche gli uni da una sola parte, della parte dei lavoratori. Infine, porto un saluto del nostro segretario generale, che in questo momento è in missione in Palestina, e vi esprimo i nostri migliori auguri di un gran e proficuo congresso. Grazie mille.